A presto 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 Abbiamo scritto 9 canzoni Per lo più 8-10 canzoni In italiano stiamo curando la parte tecnica e musicale Specialmente dopo l'arrivo del chitarrista nuovo Stiamo un po' Riascistando il gruppo Per cui prima di partire Perché lui è un chitarrista molto tecnico? No, è un chitarrista bravo Sì, anche tecnico Hai capito Hai capito? Hai capito? Falso Siccome devi anche abbinare la parte vocale e i cori insieme alla chitarra non è semplice perché... Devi anche cantare? Eh sì, dicono Quindi per fare qualcosa anche col dito raw? Beh, penso che per il prossimo futuro sì e poi vedrò, se mi ricordo come si fa a suonare la chitarra Se no suono col dito medio... userò il dito medio per altre funzioni Dobbiamo assumere qualcuno che suona la parte destra delle chitarre col plettro, capito? Ragazzi, un altro annuncio Se avete qualche chitarrista che sappia usare soprattutto la mano destra Quindi che non si esercita solo con il chitariro Non mi accompagno con lui, deve andare sempre con lui in camera, con lui, deve sempre starci attacchi Quindi vi deve anche piacere lui? Sì, dovrò spiegare delle cose alla mia fidanzata Non ti preoccupare, è solo per lavoro e per la band Allora, vostri riferimenti social e poi finisci il discorso sui prossimi progetti Yes, allora abbiamo il MySpace, www.myspace.com.com.com.com C'è tutto il link, non ci credo Facebook? Next up su Facebook Cercate Under Black Stars su Facebook E fuori Under Black Stars Allora ragazzi, grazie Under Black Stars, in bocca al lupo per tutto Spero di rivedervi presto a nostri eventi e altre cose In bocca al lupo e date? Non si sa niente Date? Penso che partiremo a dicembre con i locali nel Vicentino Però saranno presenti nel nostro sito MySpace e nel Facebook Ok, teneteli d'occhio allora Ciao, ciao Under Black Stars Ciao 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 Ciao